Dal puro divertimento all'esplorazione estrema, il tuo riferimento è Eligio Romano Ferrino Stone, via Piano Dardine 15 a Tripanta. A 80 anni, aiutata solo da un bastone con cui a stento riesce a camminare, alla signora Adelina Colella, aggredita da un tumore al colon, invalida al 100% residente in una cassa a Monteforte Irpino, non è stata concessa l'indennità per l'accompagnamento dall'Inps. Con difficoltà l'anziana riesce a fronteggiare le esigenze del quotidiano, ma in caso di emergenza, avverte, resterebbe da sola, sola con il suo bastone. Nonostante l'handicap, però l'Inps non ha ritenuto assegnarle il sostegno richiesto alla signora Adelina. Non resta che lanciare un appello, sperando che l'istituto riveda la sua posizione. Sono stato operato al colon sinistra, sono due anni, il 23 aprile del 17, quindi vado e vengo per controllo e l'Inps mi ha rifiutato, non so perché, la ragione. Cosa vi ha rifiutato? Perché hanno detto che io sto bene. Cioè vi ha rifiutato cosa? Cosa avevate chiesto? L'accompagnamento, mi ha dato l'invalidità al 100%, però l'accompagnamento non me l'ha dato. Quindi vivo da sola, ogni 15 giorni vado all'ospedale per controllo, non c'è nessuno, faccio tutto da sola. Voi camminate con il bastone? Perché da sola non ce la faccio, casco. Quindi ho bisogno... Stare da sola in casa non è facile per lei. Vedi anche paura, signora, visto ultimamente i furti negli appartamenti. Certo, perché vivo da sola. E quindi qual è l'appello, signora, all'Inps? Cosa volete dire ai dirigenti? Ma di vedere la situazione, di darmi un aiuto, perché così da sola non posso vivere.